bene ragazzi eccoci a un nuovo episodio di super robot wars 30 allora la storia l'abbiamo completata adesso rimangono le missioni che si sono sbloccate sono dei dlc in più abbiamo anche questi altri dlc e questo è della storia e poi queste tre missioni esso penso che siano quelle piuttosto procediamo continuo con questo sì ciao Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 ,, ,,, 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 ,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Grazie a tutti. 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 ok. ok. a tutti. 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 su. . tutti. a tutti.